Ciao ragazzi, per ieri di Beethoven sul mio canale e io sono Magnus questo livello forse secondo me ci porterà alla fine non lo so, però lo sto vedendo abbastanza o meglio più lungo degli altri quindi chi può dirlo ah, il passaggio da là a qua ok, quindi vediamo se riesco a questo punto a risalire un po' di livello questo ce lo becchiamo invece non ci becchiamo una mazza equipaggiamento sbagliato oggetti pietra, sì ok servirà per salire un poco, che dite? vediamo un po' niente, vabbè vediamo se abbiamo qualcosa che ci può servire ok dai mica là ce ne possiamo andare mi sa che vado di qua ma che strano non si vede niente però, mamma mia allora ok mi hanno già visto ma eh allora no aspetta ma parca ma dai quello è andato e muova pure quest'altro ok ce ne sta un'altra che si sta muovendo mi pare sì brutta vita eh mi spiace per voi ma purtroppo fa parte del gioco ma oh l'acqua è bellissima però eh allora qua aspetta qua eh che secondo me qua dietro c'è qualcosa dai che c'è qualcosa però non sento il nostro amico no occhio eh no vabbè allora piano e cerchiamo di capire bene dove si deve andare e dove non si deve andare ok parca di quella amica che cavolo era? non lo so ma dobbiamo stare molto attento no dobbiamo stare molto attenti che non vede una mazza ok dai di là non si va e si va di qua ok meno male che ce l'abbiamo fatta sì occhio di qua allora occhio perché ci stanno i nostri amici eh ma che zona è non lo so qua ci sta qualcuno se non è ah là ci sta il tizio ok tanto lo sappiamo tutti quanti che dobbiamo andare di là no questa si apre ok ok questa è la porta per andare dove stavamo dall'altra parte ma tanto capirai non è necessario che vado dritto ok là ci sta uno oppure è morto ok no ma porca mi si era sbagliato va bene ma pure da qua mi sparate anche da qua mi sparate ok bella questa bella questa che fa dove vai dai come la fai sempre questa cosa eh ok 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 a Dai, veloce, veloce E guardalo Ok Allora, là ci sta uno Se non mi sbaglio Ok Facciamoci un attimo a questo Ma poi non c'è niente da fare Che sparare in continuazione Lo vedo neanche più Aspetta Ma chi è che sta insimando? Ah, sta insimando Manco sei morto, sì Visto che affanno che c'hai Secondo me Aspetta, ci sta pure a quello È morto? No Ok, viene andato Bel castello Allora, ci prendiamo un attimo qua Le varie cose Ok Ci becchiamo anche a questo di qua Sento l'animaletto Dove stai? Sopra stai Da che cavolo stai? Lo sento ma non lo vedo Vengo di qua? Dai Mamma che brutta zona che è questa Sembra tipo Un tempio Maledetto Però c'è un'isca calma Vabbè All'asta Vedi? Ciao Andiamo Magari mi porti bene Come al solito E vediamo Ma se ce la facciamo Aia E' E' una brutta zona Bellino Io lo dico Già da adesso Ci sta un tizio qua Aia Qua No Che bello Che bello Che sei Grande Bravo 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 Tra un po' schiattiamo Perché ci ha buttato Il fumo addosso Perché si apre Questa ma penso Si apre Questa No Devo prima Sconfiggere Franfil l'occhio Lì Ok Ma questo Ma che sei Lo tatuolo di sumo Ok Oh Sti cosi Se ne stanno Ah Vedi Mo c'hanno pure i lampioni Animo Ok Non è che ho capito Allora di qua Ok Da ci sta solamente lui Non credo No ci sta la donna La donna Ah no Ci sta Ah Basta Una volta Che è stato Sfortunato Ok Allora Là C'è Mr. Bean Qua Vediamo di beccarlo Perché Sennò quello può avanzare Rompere il scavo Ok Sennò quello può avanzare e rompere il scavo Eh lo so Occhio Ma che mi lancia Senti alberi Senti alberi Ok No 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 È andata È andata Oh è uno di quelli che mi rompe più le scatole Però avete visto Sempre Sempre con lui non funziona Vabbè L'ho consumato, non fa niente Sinceramente, tra un po' si dovrebbe pure ricaricare Quindi andremo a avere un problema Là c'è un tizio maledetto Allora, di qua Non si può fare niente Se non sconfiggo a quello Allora non si sblocca ancora niente Ah, è lei Allora, facciamo così Che bello Allora, dobbiamo stare a te Ecco qua Questa dove cavolo esce? Dai Ma pulito il fumo, cacci Ok Aspetta Che fai? Vuoi la posizione Del No Ok, dovrebbe avvicinarsi Dai Assa fa Morto? Deceduto? Si Allora, dobbiamo stare attenti perché ci sta il tizio là E la signora La signora sta qua dentro Allora, la signora sta qua dentro però Io mi farei prima un attimo a questi Non c'ho i cannoni Non c'ho niente Quindi Toglierei un attimo di mezzo A questi perché Mi danno noia Ok Grande Quella mi serve come il pane Ok Poi ce ne sta pure un altro qua Ok Che l'ho becchiato Questo me lo piglio dopo Mo' arrivi Se no te Secondo voi arriva? Si Arriva dai Mennomale che la signora almeno è corretta Cioè nel senso Corretta Mo' vediamo se è corretta Ok Dai Bari Bari Ok Sono un po' A terra Dai No Dai Mannaccia Ok Mennomale che si è ucciso A becchiare Ok E' andata Era lei Allora non mi conviene Ce ne dovrebbero stare due qua Allora aspetta un attimo Facciamo così Che sono già carico Quindi E dai Oh Miseria Volta Andiamo un po' A rilento Mamma mia Mennomale No Ok Pensavo che stavo provendo Cosa potrei aiutare Vabbè Quindi qua Ci puoi dare qualcosa Forse Si Qua c'è qualcuno? Mi va di no Ci sta ancora Il tizio di là Aspetta che ci sta ancora Quello che ci sta rompendo Le scuole Aspetta Ma faccio un attimo Giusto per precauzione Ok Per cui Questi li abbiamo Abbattuti E mo? Il castello Qua dentro Si apre questo Ah Penso che sia Il punto per tagliare Da qua Prima non si apriva Infatti Ok Quindi dopo Possiamo poi tagliare Da quest'altra parte Si Occhio che all'improvviso Possiamo avere visite Qua non ci sta niente Però non sento musica Non sento niente Quindi siamo ancora Contane Qua ci sta il santuario Andiamo Qua non ci sta niente Forse sento la musica Forse Che è successo? Non c'è nessuno Qua dentro Alla faccia Ma quanto sei carino Si bravo Ma che cavolo C'ha via questa Che personaggio strano Vabbè Ah Eccolo qua Che palle No Qua non mi dovrebbe beccare Ok E' andato E' andato Ci sta un altro Che sta sparando Ma non so da dove Ah Sta all'asta Ma che sta al muro qua Eh ma non ci abbiamo Forza Ho l'intenzione Di arrivare fino a qua E morire Poi magari Anche perché personalmente Spesso e volentieri Non mi deve una mazza Eh Allora Non so sinceramente Come fregarci Da questo E' uno di quelli Che mi da più noia Generalmente Ci sta pure Quell'altro Ci sta Bella questa Ok Almeno così Ho recuperato un po' Ok Non possiamo anche Utilizzare le abilità Non possiamo Utilizzare una mazza Aspetta un po' Se riesco Porca Fa male Nell'occhio Fa male Fa molto male Porca Misera Ma quanto ti schifo Avanti Allora Questo l'abbiamo fregato Magari riesco Anche a trascinarlo Da qua No Ok Forse si Vieni qua Dai No No Non mi puoi fare questo Porca Ok Attenzione Io lo sapevo Che andava a finire così Va Aspetta Ok Se non ci dai dopo Anche qualcosa di spettacolare Minchiazzo Dai Ok E lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ok Dai Dai Vediamo che muri presto Morto? È morto Dai Ora per esempio Non dovresti essere cattivo E ci dovresti dare Vabbè Qualcosa di eccezionale Ah Le terme Vabbè Dai Le terme Sono buone Perché Ci danno veramente Tanto una mano Allora Ne è valsa la pena Certo È capitato Per puro caso Nel senso Non è Non è Stato voluta Sta cosa Se avessi potuto Avrei evitato Però Fa niente Allora Là Chi è questo? Oh addirittura Personalmente Pensavo Che Che fosse uno forte Vabbè Ce lo prendiamo Ma l'altro non serve Una mazza Non siamo già carichi Quello non l'ho preso Chissà poi perché Ok Andiamo Sì Oh oh Ci sta anche qua Ci sta anche qua Ok Di qua Sì Questo Guarda Addirittura Niente di meno Hai fatto una corsa Per venire da me Mamma mia Ok Qua penso che si apre Giustamente Vabbè Quindi penso che ci siamo Forse Mi hai fatto aprire pure questa Sì 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 Ci siamo Ci siamo Fincettamente non so chi sia Vedremo Speriamo che non sia Difficile Uno bello Tranquillo Vabbè Se c'è il fuciletto Eh Non si fa niente Quello è Graffi Fugge un po' Altro uccello No Porca di quella paletta Allora Andiamo a capire come si move In massa Puglio Ok Ok No Devo stare lontano Quando mi becca così Mi fa male Allo No Ma dove ce la facciamo Dai Dai E me lo dai Dai che è quasi andato È quasi andato Riesco a dargli un colpetto Oh misera Posta disposta di veloce veloce rapidamente Comunque Il yokai può funzionare Maledetto Maledetto Ah quanto ti schifo Quanto ci metti Dai Sposta di veloce veloce Questa è zona nostra Speriamo di farcela Guarda se ci sta una cosa Che mi fa incazzare Tremendamente Vabbè Ma Occhio eh Occhio No Tra un po' Lo attiviamo Non voglio rischiare Vai Occhio occhio Maledetto Non lo devo conservare Per la fine Basta Dai Dai No Non me l'hai dato Sei un bastardo Tremendo Perché Ultimo colpo E andiamo Mamma mia Porca miseria Porca E mi ha fatto pure gettare il sangue Perché praticamente Non me l'aveva dato l'altro Porca miseria Fammi se ci sta qualcosa qua intorno Che ci perdiamo Questo non era forte Per esempio Però L'unico problema Che non potevi gestire col bloccaggio E quando andava in cielo Non lo riuscivo più a beccare Vabbè Andiamo dai Sei schiattato Penso Non Ma speriamo di noi Ho ottenuto la chiave alla sala dei fondatori Oh parco amicera Mi hai spaventato come non te ne sei andato E mo? Che è sta sala? Non ho capito Che facciamo? Ce ne usciamo quindi Mi sa di sì Esco? E vediamo se devo usci Ah forse di qua No Di qua ci eravamo già stati E dove cavolo andiamo? Di qua forse Porca miseria E no bellino Questi qua li ho già sconfitti però E no Ce li facciamo altri tre volte Dove cavolo dobbiamo andare? Non lo so Mi date una mano? Parla Eh ce l'ho fatta Che mi dai? Portapillole del generale E basta 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 E abbiamo già salutato Ok Facciamo così, vada Ok Eppure è caduto Vabbè, sarà morto penso E dai Sempre tricolpito da questo Ok Ma dove vado di qua? Ma dove devo andare? Scusami, ma io non capisco Ma dove sta la strada? Allora, di qua si cade Va bene? Ok Mi l'ho capito Ah, di qua Scusami Ci dai la mano tu? Ma dove cavolo? Ma sembra un'arena Sembra Ma devo scendere di qua? Secondo me è di qua Vado di qua, vado? Sì Bardo Ehi, sì Domani Mamma mia bella Questo come lo ammazziamo secondo me Ah, ma lo becco Ma mia lo becco Sì Mazzano Vabbè Vabbè Allora Va bene così Vediamo pure uno di questo Magari ce la faccio Magari Ok Oh, è come questa Allora Grazie sempre Ma no Dai Dai Vabbè 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 Se Sto cavolo di tutto Si gira E ti vuoi muovere o no Dai Dai Avanti Ok Dai No, se riesca a espostarmi Dai Guardi, guardi, guardi Dai Ok No, non è morto Ma quando vuoi? Aspetta, devo fare i 4-4 davanti E' morto E' morto Porca miseria, è morto Mamma mia Ma muori, muori pure tu Non aiuto più a nessuno, basta Mi sono rotto le scato, voglio più aiuto a nessuno Dovete morire tutti quanti, basta Tu muoti i presenti, cretina Dovevi venire tipo 30 minuti fa No, pure 3 ore fa Dovevi venire Mi fai fare tutto da solo Poi dopo te ne torni Vabbè Ci sta qualcosa per noi qua, no? Porca di quella paletta, porca Dove stai? Stai là, stai, eh Stai là, stai Maledetta Un po' di dolore lo devi sentire qui e tu E pazienza Qualcuno si doveva sacrificare Un po' di dolore lo devi sentire qui e tu Le immagini comunque sono uno spettacolo Vabbè Zona nuova Pensavo che fosse la parte finale questa E vi dico la verità Quanto pare C'è ancora un po' da fare Allora Ci sono sblocate altre cose Ah, questa è arrivante Ok, nuco d'anime Sicuramente vediamo potenziale Oh E questo forse mi piace Lo sapete 78 Però costo 7 Mamma mia Non preferisco quella che non costo troppo le vaga Vabbè ragazzi Questa parte la terminiamo qui Ci vediamo se nel prossimo video Bye Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti